Salve amici del Centro Meteo Italiano. Ultima settimana di aprile trama al tempo e rimonta dell'alta pressione. Vediamo gli ultimi aggiornamenti dei modelli. Confermata per il prossimo weekend la rimonta di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo centrale, il quale porterà tempo più asciutto e clima più umide. Durante il ponte del 25 aprile diversi modelli mostrano una staccatura depressionaria in rapido transito sull'Italia, con fase di maltempo prima al nord e poi al centro-sud. A seguire situazione sinottica che dovrebbe vedere un campo di alta pressione in elevazione sulla penisola iberica e una vasta circolazione depressionaria sulla Scandinavia. Verso gli ultimi giorni del mese sia il modello GFS che ECMWF propongono ancora un'espansione dell'alta pressione verso la nostra penisola, con più sole e temperature in aumento. Seguite allora come sempre tutti i prossimi aggiornamenti sia sul nostro sito che sul nostro canale YouTube. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.